Trovo poco opportuno in questo momento avere un'assemblea nazionale che può generare ulteriori tensioni, ulteriori proteste. Io penso che la nostra città e i nostri ragazzi soprattutto abbiano bisogno di un momento di tranquillità e abbiano bisogno di un momento molto fermo di confronto con le istituzioni, perché l'ha ricordato ieri, io sottoscrivo in pieno quello che ha detto la dirigente Savino, che secondo me ha fatto una lettera estremamente pacata, estremamente rispettosa e con una bellissima riflessione. Certi episodi, il fascismo nel nostro paese non è nato dalle masse, è nato da singoli episodi dove c'è stata l'indifferenza. Su questo noi bisogna far riflettere i nostri ragazzi e bisogna fare in modo che queste cose non solo vengano fermate subito, ma che ci sia una riflessione e un confronto dopo, perché se no rischiano di ripetersi ancora. Avere un'assemblea nazionale nella nostra città in questo momento mi preoccupa, lo dico in maniera molto chiara.